In questo video vedremo come inserire un compito in Classroom a partire da un documento presente in Drive. Allora, scegliamo naturalmente la nostra classe, questo è il pannello delle classi che si vede dopo aver fatto login. Scegliamo come al solito classe di prova. A questo punto clicchiamo in basso dove fra le varie ipotesi c'è Crea compito, che è quella che ora ci interessa. Clicchiamo su Crea compito, diamo un titolo al compito, poniamo che sia Relazione su Machiavelli. Nella parte sottostante al titolo possiamo dare delle indicazioni. Ad esempio, redigere un documento di almeno 2000 battute, oppure naturalmente pagina o qualunque altro vincolo, che parli del concetto di potere e tirannide in Machiavelli con citazioni dal principe e dai discorsi. Questa è un'indicazione che naturalmente può essere più o meno dettagliata. Stabiliamo poi una scadenza, poniamo 30 ottobre, scelgo dal calendario. A questo punto io vado a prendere un modello di compito, di relazione, che ho già elaborato per gli studenti, magari anche in altre circostanze. Clicco l'icona Drive. A quel punto qui ci sono tutti i miei materiali. Ecco qui, indicazioni, lavoro, Machiavelli. Queste sono indicazioni soprattutto bibliografiche. E poi c'è scritto modello, relazione o riassunto. In questo caso ho trovato subito il documento che cercavo, ma nell'ipotesi che questo documento possa essere all'interno di tante sottocartelle che potrei non ricordare, da questo strumento di ricerca io avrei potuto trovarlo in ogni caso in pochissimo. Scrivo infatti per esempio modello, cerca, e qui mi vengono proposte tutti i documenti che hanno questo nome. Allora, modello, relazione, aggiungi. Come vedete è stato aggiunto il modello. A questo punto io voglio che ogni studente faccia una sua relazione. Quindi non un lavoro di gruppo, ma un lavoro in singolo. Quindi non voglio che tutta la classe lavori su quest'unico documento, ma che ogni studente lavori sul suo singolo file. A quel punto dovrò scegliere Crea una copia per ogni studente. Clicco. A questo punto posso dare una bibliografia tramite un eventuale allegato, una sitografia, un video. Nel caso specifico immagino che i ragazzi sappiano già tutto o comunque lo desumano da queste brevi indicazioni. A quel punto non inserisco altro. Non inserisco allegati esterni, non inserisco altri file da drive, non inserisco video di YouTube né link. La classe verosimilmente è una e quindi dal menu a tendina scelgo una classe, che nel nostro caso è la nostra classe di prova. Dopo aver ricontrollato la scadenza, che abbiamo detto 30 ottobre, si può addirittura stabilire un eventuale orario tramite questo menu. Ho stabilito una data di scadenza. A quel punto io posso salvare la bozza del lavoro che ho fatto, ma è pressoché definitivo, sicché io clicco semplicemente su assegna. Noterete che adesso questa interfaccia impiega qualche istante. A questo punto ogni studente in Gmail ha ricevuto una notifica che dice che il professore XY ha creato un compito che ha una determinata scadenza e questo compito deve essere svolto in un modello. Ora clicco per mostrare il modello, che peraltro è molto semplice ed è un modello di file testuale con l'indicazione della scuola, relazione e riassunto, perché può essere usato per entrambe i tipi di lavoro, in questo caso è una relazione, titolo della relazione, eventuali immagini di copertina a cura di... e qui naturalmente gli studenti inseriranno il loro nome. La comodità di questo approccio è che tutti gli studenti consegneranno virtualmente, elettronicamente, un file formattato in modo identico, quindi tutti avranno questo tipo di file. Naturalmente nulla vieta che qualcuno scriva in carattere arial, qualcuno in roboto o altri, però sostanzialmente il layout del documento è il medesimo. Questo anche per ragioni di ordine, specie in previsione di un'eventuale stampa cartacea di tutti questi documenti. Ecco, abbiamo pertanto visto l'inserimento di un compito a partire da un file di Google Drive già in nostro possesso. In un altro video invece vedremo l'inserimento di un compito a partire da un file di Google Drive che non possediamo e quindi che deve essere prima editato e poi allegato esattamente come abbiamo fatto ora.